Buongiorno L'hai tirato fuori tu, scusa, vabbè, lasciamo perdere, torniamo a te Sei il tipico giovane descritto, per esempio, che so, da Moccia nei suoi libri, nei suoi film? Ma cosa dici? No, non lo so Moccia parla di una generazione falsa, reale, pochita Invece sono un testimone vivente, come siamo noi giovani di oggi Ascoltiamo la musica con i mangianastri e giriamo in città con il motorino Malaguti Abbiamo la caefia Sì Ah, la caefia C'ho la caefia, Malaguti e facciamo merenda con la girella Sì, scusa, mangianastri, vottorino Malaguti, girella, ma che adolescente sei Sono un adolescente sfigato Eh, totale Non ti va bene niente, questo mi fa bene, chiamo mio fratello Ecco, ancora il famoso fratello Sì, fratello, fratello Ancora il fratello Ma devi smettere, questa cosa è il fratello famoso Ma io? Il fratello Basta tirare sempre in causa il mio fratello Senti, comunque l'hai nominato tu, però immagino che comunque sia una persona importante per te, giusto? Hai perso il foglio, attore generazionalista No, io non lo cago Eh? Non lo cago Non lo cago Ah no, proprio non lo Nelle cose che c'è nazionale, giovanile, non lo cago Ah, non lo caghi Va bene, ok Faccio tutto per fare cose per salui Diverse? Però ho fatto suggerimenti Per esempio il fratello mi ha detto Piccolino, perché non fa regista? E l'ho fatto Ah, bene, bene Fratello Sì, che parte la F quando... Vabbè L'ho fatto, ho fatto regista, l'attore, lo sceneggiatore, la comparsa, il camera e vedevo anche i propri goni in sala Ah, bene, forse... Senti, ma avere un fratello famoso, come lui ti ha aiutato? Stai forse insinuando? No Hai qualcosa contro il mio pedigree? No, no, ci mancherebbe Stai significando il mio successo? No Il mio bisogno di affermazione, identità, il mio istinto, contestazione, la mia libertà di potermi chiudere in bagno quando voglio? Quella è la mia libertà Sì Senti, cosa c'entra, mi devi dire? Eh, cosa c'entra? Ecco, vai avanti Non sta a me dare dei giudizi su di te, dai Anche se devo ammettere che mi piace questo rapporto che hai con tuo fratello, insomma, ecco Con che detto, scusa? Con tuo Mi fratello Mi fratello Mi fratello Hai un bel rapporto, diceva, no? Sì, noi ci diciamo tutto via sms Non vi parlate mai? No, lui balbetto, io la zeppola se ci parliamo Eh, giustamente abbiamo bisogno di sottotinoli Va bene, grazie all'attore di film Generazionista Eh, ciao, saluto Grazie a tutti